Rai 1 presenta la tragedia di Ustica Emanuela Fanelli nella parte della verace romana all'aeroporto Oh ma qua non c'è, vede l'aereo, ma com'è? Ma qua non arriva, fammi controllare su Flight Tracker Se qua c'è mosto riso che devi dire il modo di dire Romano Cashmere, un podcast morbidissimo Benvenuti alla sedicesima puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo Vogliamo subito ringraziare i nostri ascoltatori Che nell'ultima puntata hanno risposto alla domanda che abbiamo fatto Su come avessero vissuto il lockdown nei borghi più piccoli Possiamo dire splendidi Di una bellezza straordinaria Sei in un paese meraviglioso, come si dice in autostrada Tutti i cartelli con la cartella Generalmente è sempre ingiallita dal sole Tu pensi che non è così meraviglioso se la trattate in questo modo Abbiamo chiesto come si fosse vissuto il lockdown nei piccoli centri Come si dice, ci avete risposto in tantissimi Veramente, è arrivata una gran quantità di risposte E in particolare, fra tutti i messaggi che abbiamo letto Io volevo salutare, non mi ricordo assolutamente il suo nome Quella persona che ha scritto da Salina Dicendo che il lockdown a Salina Salina è davvero bellissima Delicatissima, 3000 persone E non mi ricordo neanche se, tipo, quando abbiamo trovato il covid Ce l'abbiamo picchiato O cose così Però grazie di tutti i posti Forse farla a Salina effettivamente deve essere La vera bomba Beh, insomma Questa è la nuova rubrica per aprire Ringraziamo per la puntata precedente Precedente La più dura, possiamo dirlo Ah, la più dura Una delle più dure Forse quella in cui abbiamo sfiorato la possibilità Cos'è questo fruscio? Sei tu, Tahir? Che stai nascondendo un mitra? Come al solito, un mitra dorato? Sì, è una giacca che fruscia Forse hai talmente tanto frusciante addosso Che appena ti muovi ci senti Au, John frusciante è uscito dal gruppo e mi è entrato al collo E manco capisco sto riferimento culturale No, regà, i redocci di Pepper, se le conosco Ci ho lavorato Ci ho lavorato Anthony Kiris, persona straordinaria Mi ha offerto un taco fuori dallo studio A San Diego A San Diego, sì Peccato non c'aveva l'aria condizionata Stiamo a sudare come fagocino Stiamo a sudare dai piedi Flia c'ha una puzza da scella che lascia perdere Abbiamo fatto l'imitazione a tre minuti E così l'algoritmo ci tiene in alto praticamente Se non c'è l'imitazione ci manda giù Il capo di Google Quell'indiano che si è fatto da solo Indiano americano Che si è fatto da solo Dice È lì che ascolta Oh we got it That's the moment when they're making fun of Tahir That's the moment Salutiamo anche Carmelo Dalla regia Dalla regia Carmelo Cecilia Sul divano Questo oggi Buongiorno Buongiorno Come mai non Hanno postato una foto Ci hanno mandato molte foto questa settimana Di un ragazzo con delle collane addosso Sostenendo che fosse il giovane Tahir Chi era quel signore lì? Tu lo conosci? Non so chi sia Mi cucino E comunque Io flexavo da solo Vabbè vabbè Abbiamo capito Quello era ottone Non era oro A fagotto Torna alla filarmonica Era orchestra È comunque sempre una poverata Ma certo Ma certo Ecco a proposito di questo genere di esternazioni Di questo genere di esternazioni Noi oggi vorremmo parlare del Prendersi sul serio Delle persone che costantemente nella vita Non hanno vergogna di loro stesse Le persone che talmente tanto non sanno vedere Ciò che fanno che tendono sempre a magnificarsi Leggo dalla scaletta È forse la malattia del secolo La vanità È la malattia del secolo Amplificata moltissimo dai social Dalla vita che conduciamo C'è un sacco di gente che magnifica ciò che fa E che non riesce a rendersi conto Di quanto poi in realtà ciò che fa è assolutamente ordinario Ti lo chiedo così Dal ruttato quasi Dimmi un nome in Italia oggi Di una persona che si prende un post Un nome È il primo che ti viene Ma guarda Io ne conosco tanti C'è un giornalista per esempio Giornalista Rockstar Sì è giornalista rockstar Autodefinito Grossi braccialetti di pelle Ma via gli anelli Ma via gli anelli Via gli anelli Che pizzettino Esatto Il capello sfumato qua Il capello un po' alto sopra Che ogni suo piccolo gesto È raccontato E questa è la grande arte dei narratori Quando lo fanno per iscritto È raccontato come se fosse il gesto La cosa più importante in assoluto Quindi visto che oggi Noi stiamo registrando il mercoledì Volevo dire in quanto italiano Perché me l'ha chiesto lui Grazie Andrea Per l'impresa che hai fatto Cioè Ma chiedo so Lui è la persona che in Italia Si prende più sul serio in assoluto Sì Decisamente sì Andrea Scanzi Lo abbiamo visto nel video In cui diceva La sinistra Mi dispiace per loro Perché non sono ricchi come me E io Perché non sono ricchi Io sì Perché non hanno successo Io sì Perché io sono belloccio E loro no Se io non fosse Andrea Scanzi Mi starei che sul cazzo da solo E io penso che Non possa essere detta Ne pensata Una frase di questo livello A proposito del prendersi sul serio Quindi ci siamo chiesti Ma è solo lui che sbaglia Perché è facile giudicare gli altri Certo O anche a noi Capita ogni tanto Vabbè è un meccanismo di difesa Quello del magnificarsi Però secondo me Se uno Ma difesa da chi? Cioè gli spartani alla porta? Non è chiaro questo Non è chiaro Difesa dalle proprie insicurezze Eh beh sì Evidentemente sì Ciascuno ha una fragilità Sembra un po' David Brent O Michael Scott Andrea Scanzi Quando fa quel video Sì Porca miseria Io avevo la pelle Mi stavo Stai quando sei nervoso Ho discusso con Alice dopo Ma che hai? Andrea Scanzi Che fa il fenomeno Poi al di là della questione in sé Vacciniamoci tutti Vacciniamoci presto Vacciniamoci Se no noi non possiamo andare in giro d'estate A fare cashmere Eh esatto Se non siamo tutti vaccinati Quindi ragazzi questo sappiatelo Se ci vorrete vedere questa estate Però diciamo Nella storia dei grandi personaggi Che si prendevano meno sul serio Di questo paese I più forti Erano quelli con anche grande autoironia Certo E qui ti chiedo un nome Per esempio Il nostro Ex presidente Di cui peraltro Tahir è Tahir se ha un idolo nella vita Più di Travis Scott Più È lui È probabilmente Silvio Berlusconi Il quale Il quale Ben conscio Il mio presidente Il tuo presidente Il presidente di Tahir Ma perdonami Il tuo presidente perché? Cioè nel senso Perché lo collochi In una linea temporale della tua vita? No perché è l'unico presidente Che ho nel cuore Esatto Era troppo piccolo per votarlo Ma lo avrebbe fatto veramente volentieri L'ho fatto dopo penso Eh però è fai No Siete quando Tahir è nato 99 D'Alema Fine D'Alema Fine D'Alema Sì 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 Perché l'hanno sempre talmente insultato Dentro casa mia Che poi è nato questo amore Ah c'è Ah e quindi tu poi di riflesso L'amore del proibito Eh certo È chiaro Illegal Berlusconi Berlusconi aveva una serie di comici Che lo imitavano C'era tutta Lui sapeva benissimo Che la satira anti-berlusconiana Gli avrebbe portato tantissimi voti Che tutto quanto Quel meccanismo culturale Che si era creato Alla fine poi gli andava incontro Perché essere autoironici È quello veramente Un grande meccanismo di difesa Certo Lui si è comprato Tutti i grandi autori satirici Di sinistra Degli anni 80 e 90 Ha ucciso la cultura Diciamo la contro Quella che era contro cultura E tutto quanto La portata su Mediaset Gli ha detto tranquilli Qui fate come vi pare Gli ha messo la sua polverina magica Di Fininvest E li ha neutralizzati Ha imparato la grande lezione Dell'uomo più autoironico della storia Cioè Giulio Andreotti Giulio Andreotti Esatto Il quale ricordiamo Forse una delle cose più belle Che c'è su internet È la scena di lui Che sale sul palco del bagaglino Ed è un momento di Proprio prostrazione Verso il potere Incredibile C'è Pippo Franco Che proprio Allora è il presidente Che bello Verla qui oggi Oreste Leonello Che esce dal personaggio Giulio Andreotti Per dire Io sono fiero Che lei sia qui Con noi Cioè un momento Quello sì Quello di vera autoironia Come si doveva Ed è l'autoironia Che manca i 5 stelle Che sono assolutamente Privi di questo tipo Di autoironia Nonostante il capo Sia un comico Esatto È lì che secondo me Si è rotto Il meccanismo politico Sì 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 Bravo Prosto è un bellissimo momento Per TikTok Questo guarda Secondo me Ti dico che Andiamo sul milione Ragazzi Andiamo sul Come si chiama Elisa Maino Ti vediamo a prendere Fuori da scuola Capito? Chiaro Con la nostra brillante Satira post berlusconiana Ai 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 A voglia A ballicchiare Cara la mia Elisa Vabbè D'altra parte Le persone No 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 Le persone stanno perdendo la testa Sui social Io una volta Ricordo la descrizione Su un profilo facebook Di una persona Che io conosco Non posso dire il nome X non ha sogni Ma solo obiettivi Perché se X vuole una cosa La ottiene Frase scritta Da una donna Guarda che Taira nuisce Era Quando Lisa Rice Non era Quando Lisa Rice Era una di queste super donne Che adesso fanno capire Tipo le cose La magistrata Poi si è messa a fare La cosa attivista Così E poi un giorno Non so che cosa Bella cattivella Sì No beh Si social Diciamo amplificano Questo concetto E prendersi sul serio Perché avendo un pubblico Che ti dà un riscontro Tu puoi realmente pensare Di essere O di fare O di vivere La vita Di qualsiasi cosa Tu voglia fare Per esempio Quando unboxi Una bella Scatola Di Pollame Per i tuoi 300 follower 302 Per la precisione Allora ragazzi Oggi siamo qui Facciamo l'unboxing Di questa Pacco da otto Di ovo salario Allora Abbiamo Dunque si presentano Mamma mia Come sono ovali Ed è Tu pensi a chi Sta parlando Questa persona Per quale motivo Non riesci a capire Perché non c'è Veramente orrore Di se stesso Come fa a non capire Che quello che sta facendo È una roba Che ti spoglia Di qualsiasi tipo Di dignità Di umanità Come fai a non avere Il senso del ridico Come diceva Eminem Just lose it Esatto Non c'è problema Molla tutto Ma se pensi che su Facebook Tu eri uno scrittore Perché scrivevi post Certo Ma tu per esempio Luca Tu sei un comico Da tanti anni No? Sì Fossimo adesso Non so Su Rai 1 Intervistato Pierluigi Diaco Tu Madre di via Come ti descriveresti Un po' Sei un artigiano Della risata Perché voi comici Avete un po' Siete un po' Come il clown Che si strucca Giusto? Allora sì Grazie per Luigi Per la domanda E se riesci a farla Senza il tuo pisello In bocca Però Mi fai una cortesia Perché La parte più assurda È quando si prende sul serio Nel suo programma E ti fa ascoltare All'ospite Una canzone In video Esatto E tu senti Tre minuti e venti Di canzone E lui Voglio volare Un senso a questa storia Che sente Che canzone era? Vasco Vasco Perché lo riprendeva Dal film ovviamente Certo E Diaco schiocca le dita E si prende sul serio E se c'è una cosa Che io ho detto A 18 anni Un mio amico è stata Se io arrivo a 30 anni E schiocco le dita Tenendo il tempo Tu ovunque sarai nel mondo Vieni e sparami In testa Perché io non voglio fare Quella film Quindi quello Esatto È un classico esempio Di chi si prende A strada sul serio Ma ovunque Ovunque si trovano In questo genere Di persone Che ironia Non è compresa Nel prezzo So che recentemente Ti è stato chiesto Diteci i comandamenti Della comicità A te E a un gruppo Di altri otto comici Esatto Ero a una conferenza stampa Con un programma Che sta per uscire E ho detto Quando mai ci capita Di avere 10 comici In una sala Diteci i 10 comandamenti Da comicità E un gruppo di persone Che collaboravano Ma c'era comunque Della sana rivalità Non sono mai state così unite Nel dire insieme No No Perché la comicità La regola numero uno È far ridere te stesso Ma soprattutto Gli altri Come ha detto Il grande Lillo Che salutiamo Carmelo Tu hai frasi Di persone Che ti vengono in mente Che dici Minchia Quanta è una faccia Di cazzo Quello In generale Quelli che sono Al bancone Del pub E ti vendono Le birre Secondo me Si prendono troppo Sul serio Dimenticando che Dopo 30 minuti Vomiteremo Tutto quello Che ci vendono Cioè dici Ma perché parli Di quelli che fanno I cocktail Che sembra A parte il cocktail Come spruzzano L'arancia sul bicchiere Ma proprio La birra Bravo È nei piccoli gesti Che si vede L'essere gradato Sì Saluto il barista Del Freni e Frizioni Che nel 2009 Per fare una pignacolada Ci metteva sette ore Perché voleva scopare Le studentesse americane Che andavano a John Cabot Però tu dici Fratello Quanto ci vuoi mettere A versare quella Quanto ti prendi sul serio Io vorrei la mia birra media Per favore È vero È vero I baristi Si prendono un sacco sul serio Non tutti ovviamente Ma che poi Quando tu vai al bar E chiedi Cioè voglio dire Quando gli chiedi un cocktail Che cos'è Che ti va Ma che mi consigli Non è che Cioè tu a quel punto Siamo come barista Devi dare un po' Quello che è capito Tanto è evidente Che è davanti uno Che non ci capisce un cazzo A meno che non ci sia Una grande confidenza Ti piacciono più Le cose sapide O leggermente Ostricate Se tipo quando ti hanno capito La birra all'ostrica Guarda la mia lingua È di cuoio Non sento i sapori In questo momento E Tahir Mai sentito frasi Da grandi stucche e bazziche Nel mondo del trapping Frasi a stronzo Sì da gradasso Tipo ogni frase Che dico io Sei tu la persona Esattamente Ogni frase Ma giusto così Se fai qualcosa Di bello Perché devi dire Devi far finta E dire Grazie No Ma non è niente Ah come si chiamano Queste persone Che lo fanno Che ci scopano anche I pezzi di merda No dai Come si chiamano Quella cosa Humble bragging Esatto C'è qualcosa È una pratica Sì sì È una cosa Sorta anni fa Soprattutto con Twitter Perché è una cosa Molto anche qui Dei giornalisti Dei critici Sai non so Appunto Sei un giornalista Di Rolling Stones E scrivi Oh mio Dio Sto andando a intervistare I Daft Punk Ci si è fermata la macchina Siamo in mezzo Alla maremma Sono i piedi nel fango Oh mio Dio La mia vita è un disastro Come faremo oggi Per dire capito Che pensa un po' Di si è fermata la macchina In realtà Stai dicendo Stai andando a intervistare I Daft Punk Pagato dal tuo giornale Ed è tutto il mondo così Twitter Instagram È solo questo Sì sì Anche ragazze Praticamente modelle Che dicono Oggi sono una merda Sono un disastro Per avere sotto Ti scoperei anche Il buco del buco Sei bellissimo Amore E Edo Tu frasi particolari Che hai sentito Un po' aggressive Una volta Una volta Frequentavo il laboratorio Di Zelig A 19 anni Venne da me L'autore Con il quale collaboravo Avevo portato Delle imitazioni Dei telegiornalisti E lui mi disse Allora guarda Sulle imitazioni Dei telegiornalisti Ti devi fidare di me Perché io scrivevo I pezzi a Beppe Braida E mi ci sono comprato casa Senza alcuna ironia Guardandomi fissone Gli chiedevo Adesso ride Adesso riesco Il momento in cui ride Mi dici Stavo scherzando E non c'è mai stato Quel momento Quindi vedremo Edoardo All'isola Fra qualche anno Perché Beppe Braida Ora all'isola Eh lo spero Stavamo Stavamo facendo i provini Per un programma di comedi E l'autore Che ha passato Tutti i provini Sul cellulare Guardarlo Quando gli si è fatto Ti abbiamo detto Scusa ma Non segui Ragazzi ma io ho fatto Un cazzo di televisione Io vi ascolto Perché non sia capace Peggior lavoro Della mia vita Emanuela invece Allora A me è stato detto Da un noto attore italiano Sì Cambierò l'accento Per non far capire chi è Va bene sì Io sono l'erede Di Nino Manfredi Questo Cos'era Non so di che regione L'erede Emiliano Di Nino Manfredi Anche un po' Veneto Era Battiston Allora taglia Perché si è capito Si è capito Sono l'erede Di Nino Manfredi L'ho fatto un po' Sei tipo quello De Verdone Che sta dietro La soranella Qui esce il capo mio Guarda Fin dove pare Una scena Troppo poco citata Forse Quel ruolo Che bello Autodefinirsi Eredi di qualcuno Esatto Oppure è bello Anche quando Ti vergogni Senza aver firmato niente Ti vergogni Di dire Io sono E E dici Sai che mi dicono sempre Che io Ma proprio che Ti ci fermano Ma così dal nulla Mentre sei in coda A me sempre Mi hanno detto Sembri la Masina Sembri la Guarnieri Anche un po' più di nicchia Però è di livello Franca Valeri La Valeri Certo O a me Oppure O niente A me sta cosa Dicono che sembro Monica Vitti Però Basta Basta Perché questa è meglio Perché avete la stessa Montatura di occhiali Forse È per quello Ma certo Forse dobbiamo salutare L'ospite Esatto Salutiamo Emanuella Fanelli Che oggi è qui con noi E io saluto voi Ma grazie In una grande educazione Grazie per essere venuta Qui a Kashmir Io vorrei So che voi fate quella cosa L'inizio un po' Sì Vorrei fare quella cosa Soft porno Che fate voi Soft porno è una cosa La percepisci come soft porno La percepisci tu così Senti è un momento Anche con questa chiusura Che non so E quando sento quelle voci Sussurrate Sì Mi sento Un po' parecchio donna La metto così Ti ho voglia di farti Un bagno caldo Pensai che Vanzina Ci aveva detto La stessa cosa Vanzina ha detto La stessa cosa Quindi io vorrei partecipare Per allietare Il pubblico maschile Va bene Beh bellissimo E allora Abbiamo benvenuto Ad Emanuele Fanelli A Kashmir Un podcast morbidissimo Morbidissimo Vedi che lei ha aggiunto Questa è per gli uomini Questa Secondo me Questa Quanti ragazzi Stanno ascoltando il podcast Correndo Si devono fermare A farsi una piccola pippa Dietro a un faggio Che sozzerie Con eleganza Con eleganza Sempre Sì sì Quando ce l'ha chiesto Vanzina Era un po' diverso Un podcast morbido Vabbè E' stata più o meno La stessa cosa C'è un suo perché comunque Eh sì Tre consonanti di fila Erano un po' un problema Con lui Però Però Senti Emanuele Tu vieni da un ambiente Nel quale Le persone si prendono Molto sul serio Che è quello Del teatro Sì Giusto Perché tu comunque Hai iniziato Vengo dal teatro Tu vieni dal teatro In realtà hai fatto Tanti lavori anche no Prima di fare Sì Ho fatto call center Cameriera Dieci anni Ti devo dire che qualcuno ha scritto Che hai fatto la cameriera I call center La cameriera I call center Sbagliato a scrivere Nella scaletta Ha scritto Io quando l'ho letto Ho riso molto La cameriera I call center Cioè io che è dietro Le persone Gradisce una tartina No no Cazzo Sto chiamando adesso Per team Dai Sto proponendo il piano Di passare alla fila Il gran gesto Dei camerieri Gentile Che viene fatto Fatto la maestra In una scuola materna Per dieci anni Quello è stato il lavoro E ci si prende sul serio Nella scuola materna Sì No Nella scuola materna No Cioè si prendono molto sul serio I bambini Nel senso poetico No certo Però non mi chiedo Se fra insegnanti Uno dice Guarda che ho insegnato Per cinque anni L'elementare Quindi abbassano Una cresta Sai che mi dicono sempre Pari la Montessori Non ce la faccio più Basta Me lo dicono tutti Me lo dicono tutti Perché c'ho sto metodo Di insegnamento alternativo A me mi viene così Che devo fare Io non gli rifaccio Fai compiti Poi mi vesto Sempre De Rosa Come sui mille lire Capito E non sanno più Come dimmi Che assoghiamo Sì bravo bravo Steiner Adesso datti Io ce l'ho di natura Tutto a misura tua Mi viene proprio dal cuore Capito Però secondo me Anche nelle maestre Perché figurati Nelle maestre elementari Anche ci sarà Quella che insegna La maestra All'elementare dei varioli Che comunque dice Penso Io se permetti Ero insomma La Santa Maria usiliatrice E insomma Tu invece sei nella scuola Tu certo No io perché stavo La principe Francesco Giannini Numero 10 Io stavo in una scuola Molto capito Di nicchia Carina Bellissimo Con un insegnamento Molto figo Non erano Quindi eravamo In realtà ero io Quella che diceva Ah sì tu stai alla scuola Voi fate Col punteruolo No no Voi non avevate il punteruolo? Ma scherzi Ce l'avevate? No Ma no Ma non si usa il punteruolo Io sono cresciuto A cuori Strappati Ai centroni Di Morena Però no Non si usa Ah non si usa più? No Forse non si fanno più i lavoretti Quello che mettevi il cuscinetto sotto Col con il coniglietto di pasta Perché devi seguire una linea? Tu devi spaziare Capito? E qui c'è la Montessori Ed ecco Maria Ma forse si sono resi conto Che dare dei punteruoli in mano Da dei cinquenni Era abbastanza pericoloso anche Io credo che noi Non ci siamo presi a punteruolate Perché? Solo perché andavo a scuola Dalle suore ed eravamo Dei bravi cristiani E quindi secondo me Fra i comandamenti Non uccidere Era il primo C'era scritto proprio Sul punteruolo Certo Invece io all'asilo Mohamed Atta Tentatori dell'11 settembre Quando ci davano Il punteruolo Io non capivo più niente Facevamo i lavoretti Con le cinture esplosive Kerdas Se gli fai una linetta Pare esplosivo Facevamo tutte le cose Che sono cose che rimangono dopo Sono cose che poi ti servono Poi versavamo il caffè dall'arto Quel gesto E l'amichetta zitte L'amichetta zitte Le abbajur Che parevano delle lampadine Bene adesso E adesso Grazie a tutti È stato un piacere Vivere fino a 34 anni A proposito di prendersi sul serio Il fondamentalismo islamico Storicamente È gente autoironica Ma certo Ma loro è da sempre Ma certo Ma quando vanno in paradiso Non trovano 42 vergini Trovano delle copie Del vernacoliere Con le quali Comunque loro leggono Tutti quanti a ridere Ma non ce l'hai mai cambiata La fotoprofila Ancora c'è sui Charlie Ma come stai Fratello amico mio È finito tutto ragazzi Qui Scusa Scusa Tahir Stavo scherzando Come è andato il tuo asilo Il mio asilo è stato Tranquillissimo Solo tipo una volta Mi hanno morso dietro la schiena Ma chi Volevo un bambino Volevo ucciderlo E mia madre Ah ma così dimostra il suo affetto E c'ho forse ancora la cicatrice Vedi c'è sempre una Montessori Sopra Eh infatti Vorrei chiedere a Carmelo Come è andato l'asilo Ma di che anni parliamo Allora il primo giorno Tre riforma gentile Non volevo andare Ho pianto E poi invece Appena mi hanno lasciato lì Ho salvato una bambina Che era stata intrappolata Dagli Ula Hop E dai maschietti cattivi E lei mi ha ringraziato E ho pensato Ma allora è figo l'asilo Questa è la versione per infanzia Di quelli che si inventano Gli aneddoti In cui loro salvano la gente Tipo Andrea Scanzi Tipo quello che ha fatto Andrea Scanzi È uguale la stessa cosa Voi dovreste ringraziarmi A proposito di prendersi sul serio Ma ne parleremo Comunque no Il mondo del teatro Il mondo del cinema Il mondo dei narratori Diciamo È un mondo che si prende molto sul serio Di suo Hai qualche storia particolare Dove hai detto Io non vorrò mai essere così Come quella persona No è un mondo Sì che si prende molto sul serio Poi ho notato Non so se pure voi che spesso Si prendono sul serio Quelli che magari Poi dopo li vedi e dici Non è che proprio no Perché forse penso Che devono più Darsi un alliur Di professionalità Piuttosto che dimostrarla Sì diciamo Tendenzialmente Quando dici cento volte Che sei una cosa Il dubbio che tu non lo sia E non sei Più racconti A me mi è capitato Ma eri su un set Che c'era un regista Che si arrabbiava molto E continuava a dire Qui regista sono io Però se lo devi dire sempre Forse non è molto chiaro Esatto Adesso dico Qui l'ospite Oggi sono io Sì si sa E noi ci chiamiamo Si è capito Però appunto Sì Mi è successo per esempio Una volta Che sembra sempre Che poi gli attori Chissà che facciano No Non lo so A me fa pure un po' ridere Non per sminuire il lavoro Poi magari io sono Aperacottara E va bene Però Comunque è un lavoro bellissimo E non stiamo spaccando I mattoni Esatto Ecco Quindi siamo tutti Molto fortunati È un po' Facevamo che io ero Per adulti Certo Cioè Certo Una volta stavo in un programma In cui si parlava di fiction E di cinema Scusate che mi sono fatta Il tampone da poco Grazie Cecilia Per chi sta solo ascoltando Emanuela ha una voglia matta Di scaccolarsi Ma è filmata Lo raccontiamo Per i nostri amici Di Spotify Esatto Questo dopo la voce sexy No stavo in questo programma In cui si parlava di film Di puntate Di cose Che devono andare in onda Diciamo Si parlava di una serie Poliziesca Famosa Gialli E cose così E c'era un'attrice Molto seria Che anche nelle pause Mari uno diceva Una cavolatina Lei stava molto sulle sue Io non la conoscevo Per ignoranza mia Però Obiettivamente non era Un nome Molto popolare Sì Vabbè Insomma può capitare Può capitare Senza nulla togliere E a un certo punto Io ho detto Vabbè chissà chi Chi è questa Certo Il conduttore si è girato E ha detto La vedremo nel prossimo episodio Lei che è il ruolo interpreta E lei serissima Ha detto Io sono la nuora Della vittima Ma come Veramente Come se stesse dicendo Sono Sally Di Harry Di presento Sally Ma oltretutto A me ha fatto ridere Tantissimo La parentela La nuora Mi fa ridere la nuora Perché questa vittima Uccisa appena prima Di questa cena importante Dove la nuora Doveva portare Questi pici Che lei aveva filato Li aveva fatti Proprio lei E l'aveva fatto Per ingolosire La suocera E invece è andata così La nuora Della vittima Penso a figlia Sorella Avrebbe fatto meno ridere La nuora Lei si era preparata Per mesi a questo ruolo Facendo proprio Actor Studio Flirtando col suocero Esatto Ogni tanto il suocero Andava lì e diceva Ti vedo dimagrita Dal suocero Banalmente il marito Di questa attrice Cioè lui ci tofonava A casa la notte Entrava lei Si metteva così E flertava No no C'è È vero che c'è C'è tanti Ci si prende molto sul serio E io credo Infatti io non tollero Le lamentele Su Quando si lavora In questo campo Cioè Va bene dire che si sta Lavorando tanto Però anche io Quando sento Guarda ti giuro Oggi è una giornata Allora sai anche Chi molto tipo Agenzie Uffici stampa Allora guarda O lui che sta sul set Di Vanity Fair Poi mi devo precipitare Dall'altra parte Della circoscrizione Sono tre strade avanti Ho una conferenza stampa Di quell'altro per grazia Poi devono fare due foto Di un altro mio assistito E poi vado a casa Sono le 15 e 30 Finita la giornata Come fa a essere Hai usato la parola Massacrante Sono distrutta Ma pure Hai visto gli altri Quando capita magari Giri E per cose di tempi Dico Stai magari nel camper Ad aspettare delle ore No Sì Oggi sono distrutta Sono stata otto ore Nel camper È un lavoro di grandi attese È un lavoro di grandi attese Però sei anche pagato Per aspettare Ma poi sei stato sette ore A scrollare Instagram Sei stato sette ore Sdraiato Con l'aria condizionata Sei pagato per fare Quello che fanno tutti E in più ti diverti Esatto Pagato sette ore Per farti il selfie Nuovo personaggio in arrivo New adventer New character Non posso Siamo che mi fa ridere pure Quando quelli che dicono Tra due giorni Novità importante Perché devi fare Io immagino Stai dimenticando la firma Sotto questi post Sempre che è Stay tuned Madonnina del Dio Io mi immagino Dico amore Perché ti giri nel letto Non dormi Emanuela Fanelli Ha detto Tra due giorni Ti dice una cosa E sto proprio in pena Ma cos'è questa storia? Faccio la cognata Del poliziotto Sono la nuora Del cognato Sono tre giorni Che sto sintonizzato Ho comprato Degli apparichi radio Con cui fare il radio amatore Ho 46 radioline E un Teremin Con cui in casa Mi sto tenendo Sintonizzato Sulle frequenze Di Emanuela Fanelli Per capire questo nuovo lavoro Però mi fanno anche ridere Quelli che Ci mettono una gran filosofia Dietro questo lavoro Sempre ricordiamo Che io sono una peracottara Però Quelli che dicono cose tipo Questo personaggio Me lo sono portato a casa A me mi fa tanto Stai gara smart Come hai fatto? Scusa Mi dà Difficile il lavoro che ho fatto Un personaggio Che poi mi sono portato a casa Io gli ho dato tutto A questo personaggio Ed è ancora peggio Quando dicono Io esatto Questo è un personaggio A cui io ho dato tutto E lui ha dato tanto Quella è quella bella Non ti ha dato una pizza In faccia Sto personaggio Però non te ci ha mannato Mi risulta Alla fine Perché Io gli ho dato tanto Però forse Perché poi dicono pure Sì perché poi ci pensano dopo Senti che ti dico adesso Ma A proposito di personaggi Io ho avuto il piacere Di recitare un film Nel 2019 Dove facevo Il cabarettista Criminale E A metà degli anni 70 Io ho assistito A quella scena Che veniva richiamata In Boris Mirabilmente Con Giallini Che diceva Ma non ero io Era il personaggio Mi pare fosse in Boris Sicuramente scrivita Io ho visto un attore Che ha improvvisato Una battuta In una take E gli ho detto Puoi rifarla Così mi appoggio Perché stiamo improvvisando E lui serissimo Mi ha detto Non so se posso rifarla Non ero io E mi sono girato Verso l'altra attrice E gli ho detto Ma In che senso Eh perché così fa un attore E ho detto Wow Che mondo che siete Che belle persone Non ero io Non ero io Era sai chi Ma lo sai forse Forse chi era Allora Lo vuoi sapere Lo vuoi sapere I tuoi avi Credo Esatto Che lo sappiano bene Tutti insieme Se potessero parlare In questo momento Però è un mestiere Che ti porta a dire Un sacco di stronzate Questo è il punto Sì È questo continuamente Doversi fingere Altri Che poi probabilmente Appunto Ti porta a dire Frasi del genere Però non pensi che Fare altri lavori Prima di fare l'attore Ti mantenga un po' Con i piedi per terra Ma sì Secondo me sì Anche perché A me per esempio Capitava di Adesso è un anno e mezzo Che non faccio più la maestra Però prima facevo la maestra E facevo pure l'attrice Allora se magari giravo Mi venivano a prendere Perché ti vengono a prendere Con la macchina Quando ti portano sui set E La maestra fa la escort Mela Mi chiamavano Mela Mela ma che fai La vengono a prendere Con i macchinoni Degli stivali Fino a qua Non capisco Le altre maestre invidiose Che dicono Ma quella di puntellare C'ha una doppia vita Esatto No però Però Chi è Richard Gere Di Frascati Questo impresario Sì di Frascati Non so perché È bello È bello Però magari capitava Io stessi a scuola Magari in bagno Con un bambino A chiederogli le battute Però magari A pulire il sedere Di questo bambino E poi Mela Ti sono venuti a prendere In un attimo Passava Buongiorno Prego Perché secondo me Un problema grande Degli attori È il fatto che Quando lavori Sui set Soprattutto Ti trattano Troppo bene Ti trattano troppo bene Perché l'attore Va trattato così Anche se ti odiano Magari Però arrivi Riposati Sei stanca Vuoi un caffè Mentre tutto intorno Ci sono persone Stanno lavorando Veramente Però c'è questa cosa E secondo me Se uno Ha un'attitudine Forse caratteriale Un po' Portata a quello Pensa Allora io so proprio figo Fanno bene A trattarmi così Non pensando Lo fanno Perché è il mio ruolo Qui Soprattutto se poi Sono i primi lavori Che fai Tu pensi che quello Poi è L'asticella della tua vita Diventa quello Quando in realtà Probabilmente poi Basta sbagliare Mezzo film E già quel privilegio Lì si inizia a perdere Sì anche secondo me Collegato al fatto Che è un lavoro Che vuoi o non vuoi Ti fa accumulare Della frustrazione Negli anni prima Quindi ogni tanto Vedo delle reazioni Che Sì finalmente Si sono accorti Che sono un fenomeno Ma non mi schioda nessuno Quello è un po' L'atteggiamento E quindi Adesso che sono arrivato Mi vendico Di tutto quello Che ho passato No? Faccio io E decido io Sì forse anche questo Qualcosa mi dice Che è così In tantissimi ambienti Di lavoro Cioè mi piace pensare Che nel mondo De la recitazione Del cinema Del teatro Sia palese Lampante E divertente Anche da vedere Però ti può sembrare Che il mondo Dell'economia È identico Avvocati Cioè principe del foro Avrà dei comportamenti Rispetto ai suoi Esatto Sì Ma figurati Quante situazioni Ci saranno Allora guarda Io ti dico Io ho lavorato Da coppi Non ho Ma non ho problemi A lavorare con altri colleghi Non ho proprio nessun problema Però insomma Comunque Quando Andreotti Gli hanno fatto il processo Non voglio dire Però l'acqua Gli ha portato io Alla buongiorno Questo Leggermente frizzante A temperatura ambiente Esatto La Giulia famosa Per i rottini Che faceva Durante Persona Dall'acidità Particolarissima Esatto Ma e quando facevi Quando lavoravi Come cameriere In che tipo di locale Hai lavorato Locale in cui il gestore È un grande boss E tratta tutti Cioè In che tipo di No era un posto Quello in cui ho lavorato Di più Era un posto In cui c'era Una grande sala Per i concerti Quindi dipendeva Che gruppo Veniva a suonare Quindi quando c'erano Quelli Metal Nessuno voleva stare In quella sala Per il rumore Però era più facile Perché c'erano Tutti questi omoni Buonissimi Barbuti Che bevano solo birra Non bisognava fare cocktail Quando c'era il metal Ah certo perché era vietato E loro non bevano Ricordiamo i metallari Ultimi grandi Delle culture urbane Nonché per Uomini più gentili Della terra Buonissimi Gentilissimi I metallari sono le persone Più gentili della terra Non lo diresti mai E bevono solo birra E rispettano le donne Come nessuno Sulla faccia Di questo È vero No è vero Gentilissimi Gentilissimi Quindi dipende E poi c'era l'altra parte Uno veniva a mangiare Così Di cose Dei camerieri Quelle di sputare nel piatto Così Non l'ho mai fatto L'hai visto fare? No Però una volta Meno male Meno male Ci fai stare tranquilli No Però una volta C'era uno Era molto maleducato Che mi chiamava Schioccando le dita Io facevo finta Di non vedere così Poi capito Faceva Oh bella Vien po' qua Sempre Io sono andata in cucina Devo portargli la bistecca E il cuoco Mi ha detto Che ti stanno a fare Che c'hai una faccia Ho detto No c'è uno Deficiente Non ho detto deficiente Però E questo Ha preso il cuoco Il piatto Con la bistecca Ha fatto Ops L'ha rivoltato Con la bistecca Che è caduta per terra Ha fatto Vabbè Non lo facciamo Aspettare L'ha presa E io posso garantire Come tutti sapranno Che il pavimento Di la cucina Di un ristorante È forse Pulitissimo Uno dei posti Io sapevo Che era pulitissimo Più puliti Sulla faccia della terra Questo è il massimo Che ho fatto Il cliente Il cliente antipatico Non è Tu non l'hai mai fatto Il cameriere Neanche per un giorno No Ammetto di non averlo mai fatto Io per 12 Per 12 giorni Dove l'hai fatto? Tu sì che hai imparato la vita Terrazzo Su un terrazzo Di un albergo A Trastevere Per 12 giorni Fingevo di saper fare cose Che non sapevo fare Tipo È venuto il figlio Della capa Di questo albergo Una persona orribile Il figlio di Certo Ma mi fa vedere che sei fatto Tu dove sei di Milano Così Era bellissimo Era tutto vero E gli ho detto Beh ma io faccio uno spritz Della madonna Puntando sul fatto Di far ridere Tipo dai Milanese Spritz Do you know We do the spritz Fammi una caipiroska Veramente Tipo un interrogatore Io ho chiamato il mio amico E gli ho detto Come si fa la caipiroska Alla fine ho detto Non abbiamo il lime A Bru Come si fa la caipiroska Gli hai detto Non abbiamo il lime Che avevo Avevamo secchiate di lime Come se fossero stati A Rio de Janeiro Posto famoso per il lime E gli ho fatto Lo spritzettino Io sono durato 12 giorni A fare un lavoro Cosiddetto Normale Non di più Guarda io Ho fatto l'autista No il cameriere mai Ho fatto l'autista Al festival della fiction A Roma Nel 2000 Ma questo è bellissimo Regno Comunque Impero Veltroniano Era Che cos'era 2000 Boh Mi ricordo Mi ricordo Neanche più Quattro Forse Una roba del genere Ricordo Che andai a prendere All'hotel De Russi Il produttore Di Lost Produttore americano Di Lost Cioè che all'epoca Era la serie Più grande Al mondo E lo andai a prendere Insieme Forse ad un suo collaboratore Insomma io Mi dicono Andai a prendere Lui sale in macchia Questo signore americano Enorme Eccetera E praticamente Facciamo il ponte Quello che Praticamente Diciamo Dalla Dalla riva di Trasteo E poi ti porta Direttamente a San Pietro E' chiaro A tutti voi ascoltatori Non di Roma Chiedo scusa Questo ponticello Che insomma Tu lo fai E poi arriva Direttamente In mente Sul via della conciliazione E c'è una piccola discesa Alla fine di questo ponticello Io ero in macchina Muto da 20 minuti Con il produttore di Lost In macchina Pensavo Devo dire una cosa Per risultare Veramente divertentissimo E siccome Che il ponticello Fa così E la macchina Un po' rimbalza Prima di prendere Gli faccio And now Rollercoaster C'è lo fa così E Io credo che Il suono Di un albero Che cade Nella foresta Se non c'è nessuno A sentirlo Fa meno rumore Della mia battuta Credo di sì E Ricordo che Non venni chiamato In America Per lavorare All'Ost G.J. Abrams Non ti è chiamato Ma che ne so Quando uno non c'è il fiuto Evidentemente Esatto Esattamente Però alla fine Mi ha detto I have a restaurant If you want to be a waiter Just call me And you have your chance Tahir Tu non ci credo Che non ti sia mai trovato In situazioni Dove hai visto Dei comportamenti Da gradassi Ma io so C'è li faccio io No E questo Io Prima di comprare Le collane Perché le collane A questo serve Non dove di Io ho fatto questo Vedi però Certo Quanto so più diretti Ci sta a spiegare la vita A sto ragazzo Attenzione Ma guarda che Il Tahir Splane Tutte compri una collana Non c'è bisogno Di far gradasso Perché lo fa Però in questo posso dire Che il rap È molto onesto Perché a differenza Di tutti quanti I cazzaroni Per a cottari Che abbiamo conosciuto Nella vita O te vieni con me E fai la svolta Della vita Io so Il rappresentante Allora Se tu mi dici Per le calzature Nel Lazio C'è un nome Giovannoni Sono io Questa gente Che non so neanche Chi era questa persona Però in effetti Se fai vedere Il collanone La scarpina Il coso Il drip Effettivamente poi Non hai bisogno Di fare il cazzaro Certo Quindi nel rap È molto più onesto Sono i famosi Bezos Zuckenberg Zuckenberg E altri Che Steve Jobs Giravano proprio Mostrando il loro Bling bling Eh però Le foto sul jet privato Come se facevano Vabbè però Alla fine il rap Vuole quella estetica Trovi due foto Di Bill Gates Su un jet privato Pieno Pure di Bezos Sì No Bezos È un po' Più particolare Ecco A proposito di Non prendersi Sul serio Ma mai Microsoft È una collana Enorme È come di Spilletta Microsoft C'ho io C'ho io C'è il 90% Delle azioni Ma quella foto Secondo voi Di Bill Gates Bill Gates In fila All'hamburger Si è fatta fare Apposta Secondo voi L'hai vista? Forse era il stesso giorno De Chiano Ribson Nella metro Era tutto un giro Quel giorno Un servizio fotografico Facciamo film Adesso i poveri Siamo normali Chi lo sa Ma uno Bill Gates È famoso Per essere abbastanza Autoironico Sì Sì No io ho visto Il documentario Quello su Netflix Su di lui Qual è il tuo cibo preferito Lui? Hamburger Qual è il tuo animale preferito? Dog Tutto così Il tuo animale da mangiare preferito? Cow È tutto così Sì Loro sono persone Ma diciamo Secondo me Quelle persone A quei livelli Poi diventano Diventano autoironiche Per forza Il problema appunto È quando poi senti Il piccolo imprenditore Il piccolo agente Io appunto Ma guarda che io in realtà Per esperienza minima Perché non è Sai Edoardo Ormai sono 30 anni Che macino Lo so bene tu Con tutta la strada Che hai fatto Con tutta la strada No però io ho fatto caso Che quelli veramente forti Veramente bravi E che hanno anche Una fama importante Sono molto più È certo Semplici E cari Quindi non credo Che sia una cosa studiata In realtà il tono Se lo dà Chi è carente O di talento O di riconoscimenti Dagli altri Perciò Non credo sia troppo studiata No no Penso venga naturale Sì assolutamente Questa è la cosa Mi dicevate prima Dei rapper Che fanno i gradassi Se tu hai bisogno Di fare il gradasso Vuol dire Che non puoi permettertelo Se invece non lo fai È perché Sei già riconosciuto Come uno in alto Ma vale per tutta la musica Non è solo dei rapper Eh sì Per tutta la musica Beh che è inversamente proporzionale Quanto sei sborone Ha le tue capacità Ti faccio l'esempio più grande Che è il mio Lucio Battisti Che ha lavorato A Londra Per Jeff Wesley Per mesi e mesi Senza dire Che era un grande in Italia E quando l'ha scoperto Dopo un mese Il produttore È rimasto a bocca aperta Ha detto Io sto lavorando Con uno dei migliori europei E mi sembrava L'ultimo ragazzino arrivato Pensate Perché Battisti Non ha fatto New project New adventure New collab Ecco sì New post E uscivano solo I capelli ricci Emozioni Emotion Ecco Se io invito qualcuno Sono gli artisti Degli anni Degli anni 60 70 Che non erano Obbligati a dimostrare Su Instagram Quello che facevano Per esistere No se lo facevano Entravano duri Tipo John Lennon Che diceva Siamo più famosi di Gesù E poi questa cosa Aveva una certa Diciamo L'effetto butterfly Era un po' fortino Era un po' fortino Eh lo so Però forse John Lennon È l'unico John Lennon Non c'è cano Sorry sorry Ma c'è qualcosa Su cui Toglietevi Togliamoci Dei sassolini Delle scarpe Qualcosa su cui Abbiamo fatto I gradassi Ora ce ne rendiamo conto E diciamo Scusa Scusa Me stesso Tu su cosa hai fatto Il gradassi Nella vita Io dico da sempre Non ti arretto subito A te Ci ha pensato Ha detto lo dico E poi tu su cosa Io da anni Dico di fare Una matriciana Incredibile Dico la migliore matriciana La soralella Mi fa i bocchini Se viene Vabbè Allora queste cose Non mi piacciono Queste czozzerie Queste czozzerie Guarda caso Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Non è capace È normale Normale Però questa Puoi fare di meglio Secondo me Perché questa è la cosa Che vi dico Una cosa In realtà Non è la più grave No Voglio vedere La stoffa Dove sta Vai Comincia tu allora Visto che sei così Io per esempio Faccio un caffè Cattivissimo E però dico Ti offro il caffè Ti offro il caffè E poi niente No Allora Recentemente Io mi sono innervosita E purtroppo Ho detto Oh Io lavoro Perché so brava Che è una cosa Che dentro di me Io vi giuro Fatico a pensare Cioè c'ho sempre Il mio pensiero In realtà fisso Su cui devo lavorare Mi sa che Sembro meglio Di quanto io sia Forse Pensano in questo momento Che io sono brava Perché c'è molta Mediocrità in giro Che è una cosa Anche presuntosissima Però diciamolo Tanto ormai Questo quadro Di persone Orribile Però è Non so Da quale punto Dele viscere È uscita Ma l'hai detto A qualcuno O l'hai detto A me stessa No L'ho detto proprio D'altra voce Perché ero molto Arrabbiata Con un'altra Non l'ho detto Alla persona Con cui ero arrabbiata Però era Una persona Che non si era comportata Bene E quindi Mi è uscita Questa frase Che mentre l'ho detto Ho detto Ma chi sta parlando Ma lei chi è Lo sono doppiato Lo sono doppiato No io mi ricordo Di essermi incazzato Tantissimo Alla fine Della registrazione Del mio special Per Per i play Diamoci un tono Al brancaccio L'ho veramente incazzato nero Perché non era stato fatto Un dolly Come io pretendevo Che fosse fatto E ricordo di aver avuto Una specie di crisi di nervi In camerino Per cui sembravo Steven Spielberg Al quale avevano fatto Fuori fuoco Un primo piano Su Tom Hanks In Il ponte delle spie E mi sono vergognato Perché peraltro Ero di fronte Ai produttori No 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 C'erano delle altre persone No Forse c'era pure Valerio Lundini Tra l'altro Il quale per la prima volta Mi guardò No ma tu sei Sei anche questa cosa Sai fare anche questo E cosa hai detto però Quale sono Le cose devono essere fatte Come dico io Ah ok ok Cazzo Avevo chiesto una cosa A questi coglioni C'erano altre sette camere Esattamente Ma adesso torniamo Alla matriciana E poi invece Andiamo Allora Dimmi di più Di questo guanciale Io sono sicuro Di aver detto Più volte Ad alta voce E non solo Ma io Quando faccio i pezzi Ho qualcosa da dire Ah ma questa è bella Questa è bella E questa cosa Sai cosa devi fare Non dirla mai E pensarla molto raramente Sai cosa deve succedere Deve dirtelo qualcuno Però posso dirti Che il tuo pezzo Su topolino negazionista Mi ha cambiato Nell'intimo Io mi sono sentito Una persona Ho pensato Luca ha qualcosa da dire Scusa la cinese Che si chiama come me Fa le pippe tassisti Io quando l'ho sentito Ho pensato Ed ecco La poetica ravegnana Che sta cambiando la società Perché questo ragazzo Non sta facendo cabaret Sta cambiando la società Attenzione Stand up comedy Però vedi lui che ha detto Te lo devono dire gli altri E torni al discorso mio Di lui che dice Oh mi dicono sempre Che io nei pezzi miei C'ho qualcosa da dire Non ce la faccio più Quando te lo dicono Tu devi Come se te lo dicessero Per la prima volta Devi dimenticarlo Ma dici Mi è capitato di dirlo Sì E di pensarlo anche Con una certa forza Andando a dormire Cercando di chiudere gli occhi Con i pugnetti stretti Allora Ora sono stato abbastanza sincero Dottoressa Sì sì Questa ci piace Però il problema è che Lo sai che Quando ti dicono le cose belle Non so voi Non è che io mi galvanizzo Cioè che se me ne dicono Una mezza Tipo Sta cosa che hai fatto Bene però Sto male una settimana Sto male una settimana Poi ti andai in ferie Ma anche personalmente Cioè se io passo per strada E c'è uno che ha un cartello Che ho scritto Sono matto Dico cose assurde E mangia i sassi Sì E mi dice Sei proprio una brutta persona Io un paio di giorni Ci penso però Ah quindi commenti positivi E negativi in generale Negativi peggio Cioè un paio di giorni Negativi ne basta mezzo Come ti gestisci i commenti negativi Sui social Qualcuno che ti scrive sotto i video Cerco di non leggerli Non li vedo Non vado a vedere i commenti di YouTube E tutto Perché Lo so Ma sono andato io Ed ecco le No scherzo Ti abbiamo fatto un piccolo scherzo Emanuela Oggi abbiamo portato Emanuela Tutte le volte In cui Si discute Passaci il paldone Esatto Ci puoi dare Ti leggo dei commenti negativi Su di te Allora da A A L Cominciamo No poi c'è anche la cosa In realtà Non li leggo Se mi capita E che vedo Comunque ci sta Poi dipende Se sono fatti con educazione o no Non penso Ah beh ma chi sei tu Certo Vedo Però poi calmandoci Mi pare che Rihanna Aveva detto una volta Che quando li prende male Con gli haters Si ricorda che in Cina Forse non la conoscono tanti Sì E lei Rihanna Poi sale sul centro privato Deve cambiare i diamanti No però molto serenamente Penso Vabbè io sono una persona Molto piccola In un posto molto piccolo Stiamo sereni Certo Dall'alto E tutto ridimensionato E nel mondo della comicità Ti è mai capitato Di trovare gente Che prende molto sul serio Questa cosa Madonna di Dio Giusto Sempre Per noi è sempre Cioè la faida Cabaret stand up comedy Sta facendo più vittime Degli oppiacei Negli anni 70 Praticamente E poi sì No ci si prende molto sul serio Perché si pensa Che quello che noi facciamo Debba far ridere Ma attenzione Anche pensare Anche riflettere Quando secondo me Noi dovremmo semplicemente Far ridere Nella maniera più originale possibile Che penso sia L'unica cosa che viene richiesta A chi sostiene Di fare il comico A te però ti dicono Se non mi sbaglio I comici ti dicono Tu sei un'attrice E gli attori ti dicono No ma tu sei una comica Sì prendono tutti Un po' le distanze Nel senso che i comici Cioè quando ci sono Le vostre riunioni Che fate voi Che dite Noi che facciamo ridere Che vi bevete le birre E provate le vostre routine In questa parola Degli spettacoli Vi trovate per fare Non si fa No 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 Ma voi che avete le emotività Voi avete le emotività Così fuori Che dovete far È una cosa che fa molto ridere Gli attori Che devono far vedere Quanto sono felici E un po' tristi E dire queste cose Quello lo sai dove si vede Agli stage Ho studiato al centro Sperimentare Gli attori sono tutti così Sembrano dei macachi Che escono da lì Sì è vero è vero Sì 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 ce ne stanno Poi a me fa molto ridere Agli stage Io non ne ho fatti tanti Essendo sempre No poco Hai fatto bene Perché non hai perso Le tue qualità Perché sei vera Sai che c'è Emanuette Dai questa autenticità Esatto E quando c'è Di solito presentazioni Ti sarà capitato Parla di te All'inizio partono soft Sì E dopo Ma è un attimo Manco d'accoggi E dopo è vaiont Che c'è sempre Si passa subito Mio padre Non mi ha mai amato Ma io Non mi ricordo Ma chi te conosce Soi 9 di domenica mattina Soi 10 Non ho preso Manco il secondo caffè E poi dopo però Questo che dice questa cosa C'è sempre chi piange Tu lo saprei Certo Certo assolutamente Tra gli uditori Poi si piange pure lui E poi sali Allora dici Vabbè questo mi ha detto Del padre Che posso Devo di peggio E certo Fammi rilanciare Poi dopo tu ti trovi Vedo Eh capito All in Nonno Per sederti al tavolo Nonno mi faceva le cose Ecco Non ti siedi al tavolo Non ti siedi al tavolo Se non hai minimo genitori divorziati Nonno morto da poco Sai perché io faccio questo lavoro Per sentirmi amata Perché forse La separazione dei miei È stata molto Non è Sono poco separati Però appunto Ti senti La cosa Mi sa che io non c'ho Vabbè che poi è come si vince X Factor C'è l'unico modo Per vincere X Factor Ormai E la cosa Il personaggio che interpretavi alla pezza di Lundini è meraviglioso Perché è un personaggio che non prende sul serio La satira sulle donne Cioè o meglio Un personaggio che critica la stereotipizzazione del personaggio femminile in televisione Ma lo fa non prendendosi sul serio Tu temivi che questa cosa potesse essere fraintesa E con voci di donna Magari uno non lo sa Sono dei monologhi dolenti Ricordiamo le donne Esatto scusami Le donne sono le altre rispetto agli uomini Lo ricordiamo Sì Sono le altre Sono quell'altra cosa là E questi monologhi dolenti al femminile Sì Sì io temevo che qualcuno si arrabbiasse Ma non temevo perché Oddio mi sgridano Forse perché magari non riuscivo a spiegarmi Non riuscivo a spiegarmi bene Perché poi quello è sempre il problema Che mi faccio io E non è Beh ragazzi io ve l'ho detta Se l'avete capita bene Se no non è così Dico oddio forse mi sono spiegata male Io volevo prendere in giro un cliché teatrale E anche di narrazione femminile Mi pare sia stato capito però Non si sono arrabbiati troppo Ci puoi raccontare la sera in cui è nata questa idea In cui hai visto una donna fare un monologo del genere E tu hai detto Ora esco qui a San Lorenzo Fumo una sigaretta Torno a casa E gli appunti che ho preso diventeranno uno dei personaggi più fighi Guarda io È il 2020-21 Grazie No in realtà come voi saprete benissimo Sono poi quelle situazioni di Che sono le più brutte Di andare a vedere gli amici Madonnina E esci fuori E sono quelle cose in cui senti dire Beh operazione interessante Che nessuno sa bene Sì sì Oh Forte eh Perché sono quelle cose di Che poi veramente si buttano per terra Papà Perché è sempre il papà Che ha rovinato la vita Sì sì Queste grandi urla Ho visto un trailer di una persona che non conosco però Che c'era Tu mi fai girare Certo Vabbè Un po' così Quello mi ha fatto un po' sorridere No La cosa che colpisce me Che un po' fa sempre sorridere È che quando una donna parte Sì Spesso Parla a nome di tutte le donne Tu parli a nome tuo Ah certo Sì sì Io invece arrivo Parlo a nome mio Non solo Il 50% del mondo Non solo parlo a nome di tutte Ma dietro di me non le vedete Ma c'è Penelope C'è Medea C'è tutte Tutte Tutti i grandi archetipi Riassunti in me Che magari sono Come sono Una cogliona Che parla E invece ha sulle spalle Questa grande responsabilità E lo fa partendo Da una sedia Fra il pubblico Perché Lui era lì Che stava parlando E all'improvviso Si accende una luce E perché ce lo state chiedendo? Sono io Forse una donna E mi parte Oppure Datemi un muro di mattoni E un microfono Questa è una versione Se no è Partire soft Certo Sam Che non c'è nessuno Ma dov'è Sam? Ma chi sta Con chi stai parlando? Ma stai a via degli insugri Taci Demetra Taci Ma c'è sta manco L'agibilità qua dentro Che c'è Grolla tutto addosso Ma sta ad essere A impals A 13 euro Ma ne è vero Ma serviva Guarda Tu parlavi A nomi di tutte le donne Perché io lo vedevo Con Cecilia E vedevo che era lei Tipo posseduta E tipo Ventriloquo Parlava con la tua voce E faceva il tuo monologo Alla pezza di Lundini Era una cosa tipo Di possessione E lì È come l'attore Che ha detto lui Non ero io È certo È quello Cecilia Si è buttata per terra dopo Non era lei Ci ha vendicato Stracciandosi Si è strappato Le vestiti Esatto Ed è proprio quello Che è successo Io quello volevo Grazie Prego Prego No no Hai parlato a nome Di tutta la popolazione Femminile mondiale C'è solo una signora Che non si è sentita Rappresentata in Perù Ma non diciamo Chi è È una stronza Ma queste sono quelle Che scrivono le cattiverie Perché è invidiosa Esatto Perché io sono alta E snella Brava Voglio vedere lei Come sta messa Appunto Che poi fanno così Capito Fanno sul body shaming Guarda che la poesia Che ha detto Quella brava ragazza Lì Con Biden Stavo in lizza Io con voci di donna Alla fine Non ci sono potuta Andare con l'aereo E il covid Eh non hanno trovato Una che ti potesse Tradurre bene Voices of women Però guarda Perto è incredibile Però Emanuela Perché proprio Non c'è solidarietà femminile Fra voi donne Guarda questo fatto Io non riesco a capire Come mai Il cento per cento Delle donne Non solidarizzano Fra di loro Sempre Costantemente In ogni momento È incredibile È incredibile È un argomento spinoso Quando è che ci sei quasi Riuscita a solidarizzare Con Sei riuscita A fare gruppo Con le ragazze Perché anche questo Come fate voi donne È un cliché orrendo Beh ma un po' Di solidarietà femminile No la solidarietà femminile La solidarietà femminile È intesa come Qualsiasi cosa Dica una donna Sono d'accordo con lei Ma penso Non esista Non sia possibile Anche perché Sminuisce la donna Perché io sono d'accordo Con chi sono d'accordo Con le donne intelligenti Non devi essere d'accordo Necessivamente Con gli uomini O le donne Con cui sono d'accordo Appunto Poi intelligente Presuppone che io sia Allora io sono d'accordo Sono grandi luminari Cioè ma anche su una cavolata Una frase detta La Barbara Alberti Mi ha colpito Mi ha veramente toccato No però certo Se una donna Invece Quando l'ho sentita Il grande fratello Che ha detto Quelle fratelle Che commentava Che commentava Che commentava Molto Guarda l'ha commentata Molto bene La cosa di Alda De Usani Che è stata Molto lucida È un'amica È un'amica È un'amica È un'amica È discriminata È discriminata Per il fatto di esserlo Quella sì Cioè nel senso Problemi sul lavoro Discriminazione Perché quelle esistono O Gli stipendi Tutte cose che noi sappiamo Allora quella sì Se intendiamo solidarietà femminile Cioè io da donna Ti capisco E mi batto Per questo Ma non che Ma quella è una causa Che è in un Non so come dire Io da donna Io da uomini Tutti In realtà Da essere umano Tutti ci dovremmo Arrabbiare È una cosa incontrovertibile Però appunto Fa più effetto Quando appunto Vedi il monologhetto In televisione In cui agli uomini Se la cantano E comunque Tutte le donne Devono essere Necessariamente d'accordo Con la cosa più brutta Ma iscritta Nella storia Messa in prima serata E però Sembra sempre Che ci debba essere Questo abbraccio femminile In nome di un Di un obiettivo comune Anche se la cosa Che è stata detta È orrenda E se si prova a criticarla Ma allora sei contro le donne È un terreno scivoloso assai Nel senso che Spesso noi Scopriamo De cose Che non sappiamo Spesso quando si parla Di queste cose Mi rendo conto Che gli uomini È come se Poi torniamo Cioè ci sono un sacco Di cose Che non sappiamo Sì oppure capita Magari no Mi è stato chiesto Una volta Ma questa cosa Mi è venuta in mente Questa cosa Secondo te è sessista Ma non è che io In quanto donna Sono tenutaria 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 Lo sappiamo tutti Lo sanno tutti Anche gli uomini Se è una cosa È sessista Però io in quanto donna Allora scendi Dimmi E generalmente Quando viene fatta Questa domanda È sempre sessista Non c'è una possibilità Che non lo sia Perché uno che ha fatto Perdonare volgarità Ma venendo dal mondo Dei mattoni Eh lo so Perché io sono ragazza Quindi fai bene No Attrice e comica Non comidienne Come si suol dire Grazie Ma no Hai detto tu Non l'ho detto io Ne cabarettista Ne cabarettista Esatto Sicura? Ci hai flirtato Con il mondo del cabaret Un pochino Un paio di volte Diciamo la verità Si è uscita un paio di sere Un pochino Mi siete risentiti Sì come la matricianella tua È stata L'equivalente Della tua matricianella Senti anche la giornalista Di A piedi scarci Anzi no La regista L'attrice e regista L'attrice e regista Era un Non prendere Era un Prendere molto sul serio Il mestiere Il mestiere Del regista romano Sì dell'attore Dell'attore e del regista romano Di Roma che non si riesce A emancipare da se stessa Mai Sì E anche del Del lavoro sul linguaggio No? Queste cose che dicono Certo I grandi lavori Questi Sai un po' Tipo Romulus In proto latino Non l'ho visto io Romulus Scusate Sarà So che è meraviglioso Però mi fa un po' ridere Io sono stato tutto il tempo Con Google Translate A farlo sentire La televisione E poi risentirmi Il dialogo Poi scoperte dopo C'erano i sottotitoli Però me lo sono visto Due ore in proto latino Ecco Ah no Non l'ho visto Ma non è per criticare Sono cose che fanno ridere Mi fanno un po' sorridere Perché poi dopo c'è Beh è stato un grandissimo Lavoro sul linguaggio Mi fa un po' ridere Mi fa ridere Poi soprattutto Ho pensato col romano Col romanesco Che appunto Ma in realtà Lì a me mi ha da un po' Di scherzare Di dire questa cosa Che è sotto gli occhi Di tutti Poi lo dico io Che sono romana Non sembro la milanese Che rosica Perché non trova i ruoli No non perché Non trova i ruoli Ma mi fa ridere Quando vedo le fiction Ci scherzo un sacco Sul fatto che spesso Attori con palese Accento romano Siano messi come protagonisti In storie fuori da Roma Questo Sì quello anche Infatti quando ho letto Questo appunto Sull'essere rosiconi Ho proprio detto Me lo segno E gliele canto Quando Però No no Non ho detto Infatti che uno è rosica Però se l'avessi Penso a piedi scarsi Fatto da me Milanese Sembra Vabbè Ma questa sta rosica Perché non trova i ruoli Ma invece ti posso dire A me verrebbe divertito Sì avrebbe un sacco di pudore Autocensura Sul fatto dei dialetti Cioè No nel senso Sul fatto che quel personaggio lì Ha una battuta su Roma La possono fare soltanto i romani No no Non è in questo senso Le battute sui napoletani Se non sei napoletano Non le puoi fare Ma perché Ma io invece le voglio fare Mi divertono E mi aspetto Che un napoletano Ma perché Ma noi vediamo tanto Vi vogliamo bene L'attrice che si lamenta All'Olimpico Quanto ci vogliono bene Io non dimentico Quanto ci vogliono bene Persone che non sono così giù No dico L'attrice che però Si lamenta Dello strapotere Del cinema romano Cosa Legittima Cosa legittima Però se faccio Io sono romana Quindi a me va benissimo Nel senso che Lavoro anche per questo Perché spesso Devo parlare romano È meno Cioè più autoironico Come dire Funzionava In quel senso Certo Pensa però se In quel senso Con sole Z In quel senso C'era una Z Anche nella N Esatto Pensa se Mussolini Avesse fatto Cinecittà a Pordenone Cioè per uno strano disegno Del Minculpop Il Ministero della Cultura Esatto Cinecittà non veniva costruito a Roma Ma a Pordenone Noi avremmo avuto Tutta quanto una scuola Friulana Di cinema Sarebbero stati belli Dei bellissimi film Tipo Roma città aperta Però tutto girato In Pordenonese Tante sticca Vedi Mamma Pordenone Mamma Pordenone Certo I tre allegri ragazzi morti Sarebbero stati tipo Pasolini Praticamente Al rango Carmelo Vuoi dirci qualcosa? Ci sta segnalando Che ci stiamo avvicinando Al faro Ah ok Siamo faro nella notte Eh sì Eh sì Perché C'è qualche Domani mi è venuta in mente a caso così Visto che hai anche Cioè scherzi anche sul fatto di avere un forte accento romano C'è qualche fiction In cui ti farebbe ridere fare un personaggio Che col suo accento romano Fa molto O ridere o sennò Tipo stavo pensando Non so perché Se facessi Montalbano Un personaggio tu Che arrivi Che arrivi Arrivi a cicli Lo sai che mi farebbe ridere Come lo userei Non Montalbano Senza criticare In generale Di solito arriva Quando ti arrivano i ruoli Quelli Romana Verace Una decore Capito Quindi No Farebbe più ridere in una cosa Che non c'entra Serissima Magari Magari Una storia vera Che ne so Ma non voglio dire cose gravissime Però La fiction Su Un grande caso Tragico Italiano E il ruolo Ah oh Echima è qua Che te serve Ma perché ce l'hanno messa Dagli la porta Dagli la piano Montalbana Raiuno Presenza Mazzara del Vallo Perché poi è sempre verace La gestione La romanità è verace C'è solo quella Per il resto D'Italia Viene venduta solo quella No ma poi in realtà Io ci ho scherzato molto Pure con i video Quelli dei Schumachella No che io prendevo in giro Sta cosa dei romani Che quanto siamo felici Di star Roma Con quel vestito Uno schifo Non si sa Un aspetto Il barocco romano Con il guannone Ma con queste cose Tipo e vabbè Siamo così E cose gravissime Solo che Non so Non è stato capito bene Parlavo con una persona Di questo ambiente Mi voleva proporre delle cose E mi diceva Perché poi io Emanue Io so come te So Decore So Romana So Lamagnani Cioè si è autodefinita In una salita So Lamagnani E potrai Vabbè Forse Va bene Va bene Conoscenze comuni Va bene No però Io so come te Ma io non sono così Non mi sento così Io scherzavo So Lamagnani So Lamagnani Rai 1 presenta La tragedia di Ustica Emanuele Fanelli Nella parte Della verace romana All'aeroporto Alla partenza Ma qua non c'è Vede l'aereo Ma com'è Ma qua non arriva Fammi controllare Su flight tracker Se coce mosto riso Che devi dire pure Il modo di dire Romano Per vedere Che sei proprio Se coce mosto riso Fuori contesto C'è una stereotipizzazione Spaventosa Rai 1 presenta Possiamo andare avanti Due ore Sigonella Sempre coce aeri Porco Di sapate vai A grazie Dai Ho i bandierozzi E te 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 Bum Rai 1 presenta Vajont Ma che freddo fa Sta sempre qua Voglio tornare A Roma A volte o due Ma pure le cose Tipo Presenta Rai 1 Tangentopoli Presente Magna di tutto Lì mortacci Vosti Sempre io No tu fai la parte Di quella che va A raccogliere Le monetine All'hotel Non se butta via Niente E che queste pure Ve volete bagnare Arriviamocene Romulus Parte 2 Tutto in protolatino Tranne te Tranne io Vedi quanto Sono brutti Con quei belle Dorzi addosso Ammazza Che fisici Però Stanno bene Sti ragazzetti Metti pure sotto Le scelle Una coproduzione Internazionale BBC Rai 1 Winston Churchill La parte Di quella che deve Mettere in comunicazione L'Italia Con Inghilterra Ero Mister Churchill Come andami Una veracissima Emanuela Scusa In the ground In the ground L'onore di avere Emanuela A regi Ma quanti soldi C'hai Quanti brillocchi Su ste dita Alla che arriva a Roma Vabbè vede qui I gagnolini Quanto sono belli Mi parlano di tavolini Poi io che faccio L'intervista Lavorare con Olivia Colman È stata Un'esperienza Formativa Well indeed She's one of the best Actress in Italy I really loved Her accent Oh yes She was so good She said those things About the corges That I really didn't love But she was amazing E poi dopo la scena Per far vedere Che ci sono diventata amica E allora Olivia Dico a me Ma l'anima Deli murciacci Tu Ti arrivi Esatto E lei E lei così Eh sì È una bellissima Rilettura Leonardo La nuova fiction Direi una L'anima di quell'uomo Sta dentro In quadrata E dentro In cerchio Tutto insieme Questo dice Che poi volamo Per fare rincoglionito Ragazzi Mi sa che non l'avete vista Ieri L'abbiamo vista Io ho visto Quattro minuti e mezzo Anche io I primi Quando lui inizia a disegnare Matilda De Angelis Protagonista Ma Leonardo Da che sapevo io Tante volte Allora Non voglio Non voglio Oh senti A me se voci Non mi piacciono Non c'ho capito Dov'hai a parare C'aveva il compasso Giacchierato Eh mazzo Se guarda Vischiella Dice tutto No perché Te sei toscano C'hai la consa La thopa No no C'è raccontato La thopa Ha detto in inglese E l'hai doppiato Così The mouse The mouse Hai detto Pussi I love that mouse Però c'è un grande Giancarlo Giannini Sì Che recita E una cosa Che solo i grandi maestri Sanno fare Sembra che stia brandendo Una bottiglia di Jack Daniels Mentre Ah sì 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 Vabbè che poi Come ti insegna no Che devi disegnare Quando sai quando fai Il corso di attore Se tu devi prendere Una maniglia al teatro E non c'è Tu la devi disegnare Quella maniglia Sembrava ubriaca Quella maniglia maledetta Tutte queste cose Le sei bene Eh sì Oppure sei fiocco di neve Sentiti fiocco di neve Sentiti vento Sentiti vento Ma non facevi le cose Tipo metodo costa Quelle cose lì Non so se Sei aria Sei fuoco Mi sono sempre tanto imbarazzata Devi essere pietra Emanuela Sentiti pietra Sono tanto vergognata sempre Ma gli attori Mi fai la pietra Mi fai la pietra No perché poi Gli altri fanno Mamma mia Oh hai fatto un lavoro Che lavoro Hai fatto quella busta Di plastica nel vento Pazzesca Cioè come sei diventato In American Beauty Oh ammazza che gialla Emanuela Fa neve la busta Di plastica Poi facendo così Spero Guardate il video Guardate Per chi ci ascolta Su Spotify Un momento straziante Sul senso della vita Straziante A New York Direi una gianna Emanuela Cinema TV Anzi TV Comicità Grandi programmi Però Te lo chiediamo Con quali registi Ti piacerebbe lavorare Al cinema Serio Sì sì Una mia curiosità Guarda Per fortuna Paolo Virzi Ci sto lavorando Era un mio sogno Bello Non posso dire niente Incrociate le dita Per me Anzi Tra due giorni Torni spoiler Seguite il mio profilo Instagram Ma ci hai già detto Tutto Stai a far film Ma poi che starei a fa No Paolo Virzi Era uno dei miei sogni Poi Anche per rispetto A tutta la mia infanzia Passata A imparare a memoria I suoi film Verdone Ma a Roma Ci avete un po' la fissa Per il Verdone Si può dire No scherzo Si Eh no Si può dire però Padre acquisito Di ciascuno di noi Credo Eh Sono citazioni importanti Che ti insegnano la vita Beh Virzi Poi vabbè I grandi Come dire Ma pure ho sti ragazzi Tipo voi Che uno vi vede Morti di fame Magari scrivi una cosa E carina Io la faccio Non è che la faccio È un uomo segno Che mi hai detto No però è così Virzi era veramente Il sogno E sono contenta Di star lavorando con lui Vogliamo Forse fare un Sto sversando E la cosa dei tweet La cosa Non c'è No non c'è Non c'è veramente E Come diciamo sempre Alla fine Esatto Come c'è Posta per te Come fate sempre La sciarpetta Ma non è mai successo Non ce l'abbiamo La sciarpetta Senti Mi hai raccontato Una cosa Che cos'è Cosa stai facendo Ma che È pazza Mi avevi raccontato Una cosa molto bella Mi avevi raccontato Una cosa molto bella Accaduta All'asilo Un'altra carina Così Che però I bambini Che appunto Prendono tutto Alla lettera Ce n'era uno Di tre anni Che mi aveva detto Mela mi dai l'acqua Mentre stavamo a tavola E io gli ho detto Sì Però ti sei dimenticato Mi sa la parolina magica E lui mi ha guardato E mi ha detto Abbracadabra Giustamente Perché È molto alla lettera È una parolina magica Senti Emanuela Non abbiamo Non ci abbiamo parlato troppo Ma un ragazzo così giovane Tu che sei stata Anche in seguito Cosa vuoi dire Per il futuro Hai delle parole Per questo ragazzo Hai un consiglio Per me Per arrivare a fare Quelle cose Che faccio io Tu che faccio Così Perché è così Guarda quella roba È stata studiata È stata studiata Perché ho detto Questa Occhio Che faccio il botto Questa diventa virale Non è che ho detto Faccio una cazzata Certo Ho detto No no Perché sono quattro gesti Che è così Non lo so Mi pare che era Così 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 E poi che l'undine Era una pippa Quindi era tipo Quindi era così Certo Invece io so forte Un po' un giocatore Moderno Esatto Per arrivare a questo Lo senti l'odore Delle tavole Lo senti l'odore Della polvere Di fammi il fiocco di neve Tutto questo lavoro Mi ha portato ad essere Il meme Che tu Tanto ami Perché io ti vedo Che mi guardi Con gli occhi a cuore È il meme Col quale mi informo In realtà Io mi informo Con quel meme Tanti sacrifici E però Non perdere mai La propria autenticità Scusate se vi dico Questa cosa Questo serve anche a voi Lo capirete tra un po' È una cosa bellissima Che ci hai detto Emanuela Questa veramente E noi ti vorremmo ringraziare Per essere stata Qui con noi Quest'oggi È stato molto bello E però appunto Proprio per questo Noi oggi ti volevamo Fare un piccolo regalo Perché tu sei Una donna Coraggiosa Hai dimostrato Di saperci far Tanto ridere Hai dimostrato Hai veramente Dimostrato A tutte le donne Che sai far ridere E per questo Ti abbiamo voluto fare Un piccolo regalo Eccolo qui Siamo così Sì Dolcemente complicate Delle rose Nuove cose Potrai trovarci ancora qui Velle sere tempestose Portaci delle rose Nuove cose Ma sono veri Le avete pagate Le abbiamo pagate Ma non i più cari No no Abbiamo preso quelli Che costavano Un po' meno Ma è una cosa Meravigliosa Grazie Perché hai rappresentato Tutte le donne Del mondo Grazie Questi invece Abbiamo preso Il meglio del meglio Questo invece Sapendo che Insomma Poi adesso Magari ora poi Ci dai una rassettata Quando andiamo via Emanuele Grazie Scusa Abbiamo pazienza Esatto Che c'ho l'autista fuori Io sì Va bene Tanto te facevi La cameriera Ma sì Certo Quindi insomma Abbiamo capito Che ti faceva piacere Bene Ringraziamo Emanuele Fanelli Per essere stata Con noi Veramente Grazie Davvero Emanuele Quando si dice Metterci la sauce Insomma Dicono in America Era tutto previsto Fino a un certo punto E poi come dicono in America Ci metti la salsa sola Anche coperto Carmelo Un applauso Carmelo ha coperto Perché ci ascolta Il logo Del detergente Perché c'era il prezzo Non voleva farti vedere Il regalo Però hai visto Che non è stato All'ultimo L'ho visto Ho detto No no Agaffato Professionista Professionista Carmelo Bene Ringraziamo il nostro pubblico Grazie Luca Grazie Emanuela Che è stata con noi Grazie Tair Grazie Tair Cecilia Grazie Carmelo Ci risentiamo La prossima settimana Con una nuova puntata Di Cargir Un podcast Morbidissimo Ciao Grazie Grazie Bellissimo Ma questi Veramente Sono per me No Come lo vedete Ho fatto solo la gag Che ci costerà La chiusura Del podcast Veramente No Ma è bellissimo Grazie I fiori Sono splendidi I fiori li abbiamo presi davvero I fiori sono belli Che avete scelto Se li ho mandato loro Cioè I tulipani Bellissimi I tulipani dedicati A Sanremo Non me li hanno dati Come non te li hanno dati Come no Non ci ha fatto piacere Ero già uscita E' entrata la tizia Con i fiori miei E se ne andava E non te li hanno dati dietro No Mazza Beh allora sono i fiori De Sanremo Scusa Fate la chiusa qua A Sanremo Non me li hanno dati Io ho girato Ho girato tutto Che bello È vero Non ti abbiamo chiesto De Sanremo Eh cazzo Ma troppa roba da chiedere Cioè è brava Perché invece Deve un sacco Ti volevo chiedere Un'ultima cosa Sì Ma poi Gianluca l'assicuratore Sì Ti ha aumentato la polizza Perché hai fatto i sordi Che sei andato a Sanremo O comunque Sei rimasta su furto incendio E non hai messo più Latti vandalici Ma lo sai Latti vandalici Alla scoda Non glielo ho messo Non hai messo Ma lo sai che mi sa Che non c'ho manco furto incendio Io Ma scusa Ma c'è una mica targa Allora C'è un amico a Milano Che organizza polizze Facile.it Che unisce il mondo Dello spettacolo Al mondo delle polizze Assicurative Comunque Gianluca Quando gli ho chiesto Se potevo mettere la pubblica Sì